Ciao ragazze, benvenute o bentornate sul canale oggi inizieremo una nuova rubrica che è la rubrica 60 secondi review in cui io in 60 secondi io perché chi altro oltre a me c'è in questa stanza vi andrò a fare la review di un prodotto o di alcuni prodotti che sto utilizzando tantissimo e che conosco davvero molto bene oggi partiamo subito da un fondotinta il fondotinta in questione è lo skin modernist della Kiko questo è un fondotinta correttore il fondotinta presenta un applicatore così come se fosse un lip gloss quindi un applicatore a spugnetta che trovo sia davvero molto comodo per andare ad applicare il prodotto essendo un fondotinta correttore si va subito velocemente a uniformare l'incarnato ovviamente avrete sempre bisogno di un correttore se avete degli occhiai come le mie però già con questo fondotinta guardate qui come vi andate a minimizzare perfettamente questo è l'effetto finale del fondotinta è un fondotinta come vi dicevo molto coprente quindi andate già a minimizzare la gran parte delle vostre imperfezioni sul viso occhiaio e comprese sentite leggerissimo e vi dura tutto il giorno e io ogni sera quando vado a struccarmi lo trovo completamente tutto sul dischetto di cotone tutto sul pannello per cui è assolutamente un fondotinta che mi sento di consigliarvi sia per effetto visivo che per la durata io spero che questa review velocissima vi sia piaciuta fatemi sapere se anche questa tipologia di video vi piace vi lascio un sondaggio qui nelle scritte in alto e votate sì o no se vi piace questa rubrica e se devo continuare a portarla avanti lasciatemi un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati e mi raccomando non dimenticatevi della famosissima cappellina qui sotto dove ci sono le iscrizioni per ricevere sempre la notifica dei miei caricamenti io vi mando un grosso bacio mi raccomando votate e fatemi sapere se questa review vi piace questa tipologia vi piace e quali sono i prodotti che volete vedere un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao ciao